La clinica Villa Serena le dice Mimo Miceri non è gradito per lavorare in questa struttura. Lei come reagisce, se reagisce? Io ancora una volta mi sento strumento. Sono stato uno strumento nel processo Cuffaro, divento nuovamente strumento in una bega interna ad una struttura tra una maggioranza ed un'opposizione. Cioè sostanzialmente si sente quasi stritolato da una guerra interna che trova in lei, come dice lei, lo strumento per manifestarsi? A me non è stato contestato nulla della mia attività professionale a Villa Serena, quindi non c'entra nulla la mia professione. Io sono stato regolarmente contrattualizzato dalla struttura che mi ha chiesto di prestare la mia opera come libero professionista presso quella struttura. L'ho regolarmente fatto per un mese, non ho avuto alcuna contestazione. Oggi viene fuori un grande clamore, ma non credo che la mia vicenda non fosse notoria, che non fosse conosciuta prima. Tutto questo mi lascia sorpreso. Io ho il dovere e il diritto di tutelare la mia posizione di lavoratore. Le sue vicende giudiziarie non hanno provocato una sospensione, un provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine dei Medici. Questo per chiarire. L'Ordine dei Medici ha sempre attenzionato la mia posizione e valutato il percorso giudiziario. Il percorso giudiziario che non si è ancora completato. Io al momento della firma del contratto risultavo, e risulto a tutt'oggi regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici e quindi avevo le carte in regola per svolgere la mia attività lavorativa. Ci consenta una digressione sulla sua vicenda processuale. C'è un processo che ricomincia in appello, perché così ha stabilito la Cassazione, per rideterminare la pena. C'è un calcolo di attenuanti da verificare. Come si sente su quelle fronte? Qual è la sua posizione? Attendendo questo processo importante decisivo. Spero, come giusto che sia, che si possa ulteriormente chiarire la vicenda. non mi sento soddisfatto di quanto è avvenuto fin qui. Credo di poter affermare ancora una volta le mie ragioni. Ci proverò fino alla fine. È pronto al peggio? Assolutamente, con la serenità di sempre.